Anche quest'anno, dopo il periodo estivo, segnato soprattutto dalle alte temperature e mancanza di piogge, il livello della diga di Ridracoli si era notevolmente abbassato. Ora invece inizia il periodo invernale, con piogge e neve, fondamentale per l'approvvigionamento idrico del territorio. Abbiamo una situazione analoga a quella degli ultimi tre anni, dove abbiamo avuto autunni ed inverni siccitosi, dove il riempimento della diga è avvenuto grazie alle nevicate invernali e quindi nel 2017 siamo arrivati al riempimento dell'invaso agli inizi di marzo. Succederà, credo, altrettanto perché i numeri di riempimento, la diga è arrivata a circa 11 milioni di metri cubi d'acqua grazie appunto alle nevicate sul Corneolo. Quindi quegli apporti sicuramente ci hanno dato un po' di ossigeno e di ripresa, perché la gran parte dei consumi li abbiamo avuti soprattutto d'estate. Tra maggio e settembre, anche gli inizi di ottobre, abbiamo appunto il picco dei maggiori consumi. Quindi possiamo dire che la situazione più drammatica è rientrata, però, ripeto, non saremmo mai entrati in crisi, in quanto abbiamo un sistema flessibile e integrato, basato su più fonti. Quindi anche gli apporti del CER e delle fonti locali ci hanno garantito la salvaguardia. Stiamo anche perseguendo una maggiore attenzione sulle aree montane, in particolare del Forlivese e non solo, che non sono servite direttamente da Ridracoli per valutare se integrare ulteriori fonti locali per garantire i fabbisogni soprattutto estivi.